questo video arriva almeno a ciao a tutti ragazzi sono Haid e oggi voglio finalmente proporvi un nuovo tutorial questa volta il tutorial di un change molto famoso e molto semplice che non poteva mancare sul mio canale si chiama shapeshifter e consiste nell'andare a prendere una carta qualsiasi all'interno del mazzo ad esempio un jack di pick e grazie uno schiocco di dita trasformare in un'altra carta in questo caso un 3 di quadri è un change che sicuramente avrete già visto perché è molto famoso ma oggi ho deciso di spiegarvelo nel dettaglio e soprattutto dirvi come può essere sfruttato vi dico subito che se questo video arriva almeno a 100 mi piace pubblicherò un nuovo tutorial di un altro change magari un po' più complesso ma anche più d'effetto per eseguire questo change dovete prima di tutto scegliere la carta che volete trasformare in questo caso una donna di quadri e intanto con l'altra mano fare un break prendere un break della prima carta del mazzo prendere un break vuol dire distanziare la prima carta dal resto del mazzo per farlo vi consiglio una tecnica molto semplice ovvero spingere col pollice fuori la carta e mentre la riallineate col mazzo tenere il mignolo sotto che in questo modo vi permetterà di avere un ottimo break essenziale per continuare questo change allenatevi bene a fare questo break perché sarà essenziale soprattutto non dovete farvi vedere mentre lo fate una volta preso appoggiate la carta scelta sopra il mazzo e grazie al break sarà semplicissimo una volta pinzata prendere sia questa sia la carta sotto che appunto sarà la carta in cui verrà trasformata quella sopra dovete quindi pinzare con medio pollice la carta e con medio pollice dell'altra mano della mano che ha il mazzo in mano flettere gli angoli rimanenti della carta fletteri verso il basso così e una volta allentata la presa la carta girerà in un nanosecondo dando l'impressione che la carta si sia completamente trasformata visto veloce sarebbe questo la carta si trasforma vi consiglio poi di lasciar cadere le due carte in realtà sopra il mazzo e far vedere che non c'è nulla di strano nella prima carta quindi rivediamo prendo la carta che voglio trasformare break veloce senza farmi vedere in alcun modo metto la carta sopra pinz con medio e pollice faccio girare la carta ovviamente velocemente in modo che si trasformi e lascio cadere la carta facendola vedere dove può essere usato questo break beh ad esempio potete far scegliere una carta allo spettatore che voi non vedrete ma adesso la vediamo per comodità ad esempio il jack di cuori e con tecniche che conoscete o comunque come volete cercare di trattenere il suo jack di cuori in cima al mazzo anche se lui penserà che sia in mezzo quindi avete sempre il jack di cuori qua e dite ok ora vado a prendere una carta dal mazzo ad esempio questa e scommetto che questa è la tua carta la fate vedere e lui dirà no non è questa intanto voi prendete un break col mignolo qua e quindi alzate la sua carta la sua vera carta e dite beh come no beh guarda allora facciamo così appoggiate la carta la prendete e dite basta davvero uno schiocco di dita per trasformare il 4 di quadri nella tua carta andate a prendere il 4 e fate vedere che è normalissimo questa è un'ottima applicazione un'altra un po' più complicata ma davvero d'effetto vi permetterà di fare un change a 3 ovvero cosa fate? prendete una carta ad esempio un set di cuori e poi prendete un break non di una ma di due carte qua dovete per forza allenarvi è la stessa metodologia di prima ma dovete far slittare due carte quindi ora qua avrete un break con due carte fate la stessa cosa quindi appoggiate la carta qua fate il change come prima quindi la carta girerà in questo modo ok? girerà così la carta si trasformerà in questo caso il set di cuori si trasforma in un bel jack di fiori appoggiate il jack sopra il mazzo fate adesso prendete il jack e la carta che c'era sotto perché ora avrete due carte girate fate quindi una doppia presa la girate e dite ma anche il jack si può trasformare ancora e si trasforma in un'altra carta così avrete fatto un change di tre carte lasciando ovviamente a bocca aperta lo spettatore potete poi usare la fantasia per sfruttare questo break al migliore dei modi io vi consiglio sempre di usarlo per trasformare una carta a caso nella carta scelta dallo spettatore detto questo spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato utile se arriviamo a 100 mi piace pubblicherò un altro tutorial di un altro change un po' più complesso ma molto da effetto ciao a tutti ragazzi